NELLESPAR! No, sapore dei codardi, mi dispiace, what? Graves Jungle, no, fa schifo, però è meglio di Nidalee, un top laner tank, Alistar top no, non funziona più, Blitzcrank, che? Questo si che è un top laner, questo si che è meta, non quello che volevi piccare tu, comunque raga una volta per tutte, quando leggo i commenti del video tipo il marone cronico con Yasuo, raga, scherzo, Yasuo main alla fine, non fate i bambini, ma i bambini nei commenti, Yasuo main, no, perché insulti Yasuo se poi la maestria sei? Ok, scherzo, ironia, cioè che cazzo me ne frega di Yasuo, è un champion come un altro, cioè è un champion, che cazzo me ne frega, comunque raga, è con immenso piacere che vi annuncio che sarò al Games Week tutti i tre giorni, venerdì, sabato e domenica, sarò presso lo stand MOBA, io non ci credo perché allo stand MOBA saremo ospiti oltre me, Paolo Cannone, Terenas, ItalianDog, i youtuber, i streamer di LOL italiani, Anche Marco Merrino, Gianandrea degli Orion, cioè ti giuro io non mi sento parte di, cioè io mi troverò dietro a lavorare accanto a youtuber che io seguo, capite che cosa vuol dire per me questa cosa? Boh, mi troverò là tipo... Vabbè, in ogni caso ci sarò tutti e tre giorni al Games Week, Romics, molto probabilmente non ci sarò purtroppo quest'anno, mi sono fatto tutti gli anni di Romics, sia primaverili che autunnali, quest'anno forse non ci sarò, causa Games Week E Luca Comics è un'incognita, vi farò sapere comunque durante il mese Vediamo, allora non so se su Youtube l'ho giocato qualche volta, eh ok, perfetto iniziamo, beh, non so se l'ho giocato già qualche volta a Blitzcrank Toplane Però non ho AP, eh, un gioco serio, Tank Non so se l'ho mai giocato su Youtube, su Twitch, in streaming, chi mi segue in streaming, l'ho avvisto Un pick consistente Un pick of tank Resistente Con dei CC ottimi Chogat mi può fare un bocchino Attenzione Graves, non me l'ho visto proprio Flash Wasted A me E che cazzo diverso ho fatto? Che era quello? Chi è quel kart? Ah no, kart jungler? LOL Ma è diventata una 2v2 per cazzo questa Toplane? No? Ah, giustamente Kartos si prende la tassa sul... Sul niente E non rompere il cazzo Ti si vede il trade di 10.000 minion, non te ne sei accorta Ma sei pazza? Sei crazy? Ah, vuoi finire di combattere che stai perdendo? Non te ne accorgi Ho perso non so quanti minion 22 minion, dai Porta bene Zed mi ganka Sono un po' onorato, un po' eccitato Ah, ma c'è anche Kartos però, bro Vediamo un po' che succede Uhuuu Questo è quello che chiamano Killsteal in Uganda Scusami, questa è la tassa del... del cosa Scusami Graves La tassa del... Ti ho visto fare una kill mentre c'ero anch'io Vabbè, raga, per ora la kill l'ho sculata, ok? Non ho dato nessuna dimostrazione di skill Però in Toplane non è male Blitzcrank Quando fai trade con la E Autoattacco E autoattacco Ecco, il trade Si fa da solo E qua Vince Non ho il mana Non ho il mana Ha vinto Ok, scherzavo Fa cagare Fa schifo Blitzcrank Mi sono giocato il mana con la W E... niente Poi ha comprato anche gli item nuovi Raga, no, 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 no Non rimanete delusi Tranquilli, tranquilli So quello che faccio So quello che faccio So quello che faccio, cazzo E qua E qua No, non l'ho presa di R L'ho presa di R o no? Si, l'ho presa di R Eccola Eccola Guardate l'anteguerrita Vieni qua Vieni qua Vieni 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 Comunque raga Devo comunicarvi anche che al Games Week Oltre a esserci allo stand mob Avete dimenticato di dirvelo Ci sarà anche il Red Bull Faction La finale Red Bull Faction Giocata il Primo ottobre Nell'arena Esport Un'arena bellissima Raga voi non c'avete la più pallida idea Di quanto spaccima sia bella Questa arena Eeeh Stai scappando da me Codarda Wow Guardate che salti che fa Oh cazzo Cartus è un problema però Cartus è un problema Aia 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 E vieni qua E stai zitto Vieni qua E stai zitto Cartus Non è morto Quanti HP c'ha Dai cazzo Io lo potevo dare un altro attacco Oh cazzo E questo chi cazzo è E sono morto quindi E' finita per me E' finita Arrivo bellezze Arrivo bellissime bellezze Il vostro blitzcrank Di ciclare che è arrivato E' pronto E' pronto per fare casino E' però Vado a rompere il cazzo Oh cazzo Oh shit Raga Oh shit Oh shit Mi sta massacrando Ora è diventata Finalmente Akali Mid game Si è costruita la lama Extech Ora mi fa il culo a strisce Forse sotto torre C'è la posso ancora fare Anche se non ho il flash Però forse sotto torre E' ancora partita E' qua Oh cazzo Oh cazzo E vai Torre Fai il tuo lavoro sporco Porco Il tuo diet Work Eggs Tutti top Perfetto Nel frattempo Perché state a falla Vai noi facciamoci la mid Almeno Compensate 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 la top Vai noi siamo di più Che facciamo Pushiamo Dipendiamo Balliamo Ok Compensiamo Vai Oh shit Ketchum Vai Zed Almeno tu quello te lo fai Però top E' in pericolo Bro Qualcuno deve tornare Qualcuno deve Pur farlo Lo faccio io Forse esagerato Oh 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 Ho lasciato La torre E non la lascia La torre Era guerrita Quella Kali E' imbufalita Comunque Red Bull Faction Ragazzi Delle 10 in poi Di domenica Non mi ricordo Se ve l'ho detto prima Ma dalle 10 in poi Di domenica Fazione Red Bull Inoltre Volevo ricordarvi Che stasera Verso le 8 O le 9 Non lo so Su telegram Vi dirò quando andrò live Sarò in streaming E anche domani Sarò in streaming No 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 Sto morendo Sto morendo Sto morendo male Cazzarola Vabbè però almeno Ho beitato Ho beitato Ci sono riuscito No ho beitato La squadra avversaria Cioè ho beitato I miei compagni Volevo dire No 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 Stiamo giocando male Raga Stiamo giocando male Stiamo facendo un sacco Di stronzate Che è sto tsunami Vabbè ci sta Ci sta No non ci sta Ammazzate quella Lesti Oh Carthus Che si fa sentire Dal nulla No raga Ho giocato male Qua ho Ho veramente Fatto un casino No Povera Nami No che grab Di merda Che ho sbagliato No questa Ma La sono giocata male La sono giocata male Eh ma sono morto Allora raga Visto che stiamo rischiando E hanno fatto il Baron La mossa giusta qui È pillare Ash Fino alla sua Esistenza Oh cazzo Oh cazzo Morgana Prendetela Mi ha mobilizzato No Zed Sei moruto Cazzarola raga Abbiamo trovato Zed Hai trovato tutto Redemption No perché non l'hai presa Redemption Amore Ti ho fatto Redemption Apposta Ok la strategia Per questo team È Dobbiamo Regruppare E dovete lasciarmi Grabbare Perché se io Grabbo Cosa alquanto Complessa Ma se io Dovessi grabbare La vittoria L'avremmo in pugno Perciò raga Lasciatemi Grabbare Ok Ha spiegato lo spell shield Però ce l'ha dato ancora troppo Per prenderla Oh yeah Pitch Guarda quella Vieni qua Vieni Senti Senti raga Più di questo Non so che fare Cioè Io vi sto facendo Sognare Io me ne andrei Adesso Oh shit bro Ce la fai Ce la fai Resisti In questo meta Dove tutto quello Che conta Il peeling Al mid laner Alla di carry Io ho Redemption Ho tutto quello Che serve Per pillare Il mio carry Devo fare il peeling Devo fare il peeling Vieni qua amore Ci penso io Al tuo corpicino Al tuo corpicino Di pesciolino Ok Redemption È pronto a breve Redemption È pronto È caldo Arriva Arriva Non temere Ash Ketchum In redemzione Ma voglio anch'io Siamo carichi Perché non ci busciamo La mid lane Che è scoperta Abbiamo il barone Portiamo il barone Non ai minion Ragazzi Ascoltate questa call Del grande Gerenice Venite a me I mortali Veloce Veloce Che ce la prendiamo Quest'inibitore Esquisito Ottimo Aia Mi sa che sono morto Compagni 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 No 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 Va male Va male Va male Qui Va malissimo Non mi dire Che chiudono Non possono chiudere C'è il grande Blitz Crank a difendere Ah Voglio fare un Grab mistico E qua Vieni Smettila Aia Ce la fa Ce la fa Da sovravvivere Quando è che Sfanno Zed No ce la fanno Ce la fanno Ce la fanno Muore Grazie Morgana Grazie Morgana Per la kill Vai Zed È tutto tuo Sfanno Papapam 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 Traspitto io la lane Guarda qua Guarda qua Che cannoncini Oh cazzo Però sono in pericolo Sono in pericolo Qui Sono morto Ma vabbè Almeno ho ucciso uno Vai Chiudete sto game Chiudetelo Non scendo Gold 3 Guardate il mio score Ragazzi Undici Dieci Undici Chiamate ora Per un boosting Ash Brava Brava Parliamoci chiaramente Sono stato bellamente Carriato Ma non è questo il punto Non è il fatto di essere carriati O almeno Ho fatto 17 lp Uno schiaffo morale Dalla riot Per farmi capire Che non devo trollare più Però Il punto è un altro Il punto è che era un match Bello Dove ho avuto un Ash Con le mani Gli ho bannato Nidalee Ma perché gli ho bannato Nidalee Per uno scopo futuro Su Zed Era un po' Bin Laden Però Avevano Cartus Jungler Però avevamo Blitz Niente ragazzi Non so che dirvi Tanto mi flammerete Qualsiasi sia il caso Quindi non lo so Games Week Niente platino Stas season Ma non fa niente Ma non fa niente